Radio Radicale ancora qui con un appuntamento di Asiatica questa settimana insieme a me e Valeria Manieri c'è eh Francesco Radicioni collegato da Bangkok corrispondente dall'Asia per la nostra emittente buonasera Francesco ciao ciao Valeria buonasera a te buonasera a chi ci ascolta è un piacere avere qui con noi come ospite per la prima volta ad Asiatica le diamo il benvenuto Alessandra Colarizzi sinologa direttrice editoriale di China Files e autrice di un libro di cui parleremo diffusamente stasera Africa Rossa il modello cinese il continente del futuro l'asilo d'oro edizioni bentrovata e buonasera buonasera a voi grazie per l'invito appunto agganciandoci al tema e al filo tirato dal libro di Alessandra Colarizzi parleremo della presenza cinese in Africa ma in generale della strategia di Pechino per ovviamente ampliare i propri orizzonti a partire dalla via della seta e la nuova via della seta dagli investimenti imponenti davvero negli ultimi nell'ultimo decennio forse qualcosa in più eh in molti paesi in cui l'Africa è sostanzialmente il il continente prediletto in qualche modo parleremo di terre rare e ricostruiremo anche questa strada che ormai si fa avanti dal duemila in poi di una sorta di ehm Beijing consensus eh tra l'altro il libro mh ha eh oltre a essere molto interessante diviso per capitoli in cui si toccano diversi diversi argomenti appunto dalla via della seta al lato oscuro della Cina in Africa di cui eh parleremo ehm ha anche una prefazione e una postfazione di personalità importanti come il professor Federico Masini e una postfazione di un amico tra l'altro il giornalista Simone Pieranni. Allora da dove vogliamo partire? Forse un po' anche dal senso di questo libro perché eh diciamo abbiamo parlato tanto di Cina eh ultimamente soprattutto eh con il covid con il diciamo il cambio di passo probabilmente anche un po' una battuta d'arresto rispetto alla al progetto pre pandemia della via della seta eh ma in realtà appunto il flusso e l'interesse cinese e per l'Africa non è mai sopito continua a ritmi importanti tra l'altro ci sono anche cifre importanti di cui dovremo parlare eh qualche tempo fa parlavamo della presenza invece di Xi Jinping nei paesi del Golfo che è un altro punto strategico oggi della via della seta e dell'interesse di Pechino ma il come come dire il primo amore cinese cioè l'Africa è ancora lì eh ed è pronto insomma a dare immagino alcuni alcuni risultati importanti. Sì grazie Valeria per questa introduzione effettivamente il libro innanzitutto cerca un po' di colmare un vuoto perché paradossalmente nonostante si parli molto di Cina e molto anche di Africa non era mai stato scritto un libro in lingua italiana che andasse in qualche maniera proprio ad indagare in profondità quello che è il rapporto con il continente soprattutto da una prospettiva storica eh se se guardiamo i media mainstream quando affrontano il tema eh normalmente si concentrano sulla questione del debito sui numeri degli scambi commerciali quindi è in sostanza un rapporto che viene identificato come un rapporto economico non è solo così eh effettivamente lo è diventato forse negli ultimi vent'anni ma se eh andiamo indietro nel tempo eh scopriamo anche come ci sia un aspetto politico e culturale che non può essere assolutamente tralasciato anche proprio per spiegare dell'Africa si parla poi insomma sì io parto veramente dal dalle origini dal dalla di assieme. La prendi da lontano come 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 si può dire prendiamolo un po' da lontano perché forse conviene tu lo ricordavi eh Alessandra appunto a un quando parliamo di Cina eh c'è sempre qualcuno che si alza e tendenzialmente col ditino alzato e tremante ti dice è la Cina in Africa dopodiché la conoscenza tendenzialmente si ferma lì ecco a parlare di Cina di Cina in Africa eh tu parti proprio da da un arcipelago il libro inizia insomma il primo capitolo da un arcipelago sconosciuto e più eh che è a largo della costa Kenyota perché è importante e perché la narrazione di Pechino e dei rapporti con l'Africa tra la Cina e l'Africa si concentra molto proprio su questo arcipelago. Sì eh sono andata a riprendere una storia che in realtà è stata a lungo dimenticata e poi riscoperta dalla stampa statale intorno ai primi anni duemila ed appunto la storia delle prime spedizioni marittime eh cinesi in epoca Ming effettuate dall'ammiraglio Zhang He che è un nome che appunto ritorna molto nella propaganda ufficiale eh negli ultimissimi anni spedizioni eh spedizioni che in realtà non non hanno toccato solo l'Africa ma anche tutte le zone del dell'oceano indiano lo Sri Lanka e via dicendo ma che si sono appunto spinte eh fino alle coste Kenyote che eh insomma all'epoca non non erano mai state esplorate e si racconta eh in parte sulla base di di elementi archeologici storici quindi insomma confermati anche da esperti ma in parte anche molto basato su leggende che sono state tramandate sia dalla popolazione locale eh sia da dai cinesi appunto si racconta che una di queste spedizioni sia finite con un sia finita con un naufragio e che eh parte della flotta cinese si sia salvata proprio grazie all'aiuto poi delle popolazioni che abitavano queste isole Kenyote. Addirittura si racconta che alcuni dei superstiti poi ehm si siano insidiati in queste località e abbiano messo su famiglia generando eh un come dire una popolazione mista sino Kenyota che è ancora visibile ai giorni nostri proprio attraverso delle differenze eh somatiche molto chiare rispetto a quelle del della popolazione locale normale per così dire. Dopodiché il rapporto con l'Africa torna a rinsaldarsi in modo molto importante appunto dopo le spedizioni di secoli fa della di sotto la dinastia Ming c'è un grande buco di diversi secoli e poi torna a rinsaldarsi in modo molto molto importante con nel periodo maoista soprattutto diciamo dalla conferenza di Bandung in poi anche lì parliamo di anni cinquanta fine anni cinquanta inizio anni sessanta. Sì allora c'è eh un elemento che mi sono scordata di sottolineare che queste spedizioni marittime avevano una natura commerciale eh non erano spedizioni diciamo militari per così dire erano effettivamente eh il come dire l'elemento che ha mosso eh i cinesi a espandersi così lontano era un un interesse di tipo economico. In epoca maoista vediamo che invece questo interesse per l'Africa diventa fondamentalmente un interesse ideologico e politico. Erano poi gli anni in cui ehm cominciavano cominciava la rivalità con l'Unione Sovietica e eh la Cina maoista e l'Unione Sovietica in qualche maniera si sono un po' contesi il continente in termini di eh fedeltà per poter promuovere la propria visione del così di un'utopia comunista. La Cina si faceva promotrice di una versione ritenuta più purista rispetto a quella poi di Khrushchev e insomma dei dei vari leader sovietici. Sostenuta da una fortissima impronta che anche questo ci serve per raccontare oggi eh da una fortissima impronta anticoloniale che è stato il pensiero movista diciamo così il rivolto a tutti i paesi del cosiddetto sud del mondo. Giusto? Assolutamente questo appunto è un elemento importante. La Cina era a sua volta a sua volta aveva sperimentato eh l'invasione occidentale alla fine dell'ottocento il cosiddetto secolo dell'umiliazione che è ancora una piaga eh molto sentita in Cina e questo questa esperienza storica in qualche maniera secondo eh la vulgata ufficiale cinese dovrebbe accomunare la Cina a tutti quei paesi del sud globale che hanno eh vissuto un un trascorso simile. Quindi una posizione nei confronti dell'Occidente che in qualche maniera coincide e che come racconto nel libro ehm è tutt'oggi abbastanza presente insomma il quel l'aspetto narratologico torna estremamente d'attualità durante il periodo del dell'amministrazione Xi Jinping sappiamo che è una Cina che è tornata a cavalcare molto l'aspetto ideologico anche per controbilanciale un rallentamento economico e questo aspetto appunto della fratellanza sud sud che è stata ereditata e ereditata dall'epoca maoista ritorna assolutamente di attualità. Cioè fondamentalmente mi pare di capire poi correggimi tu se sbaglio è eh la Cina cerca in Africa eh sempre le stesse cose da un lato eh un tipo di narrazione che è questa anticoloniale che abbiamo detto di descriversi come paese in via di sviluppo quindi tutto un discorso anche da un punto di vista ehm appunto ideologico eh dall'altro eh dall'altro gli elementi eh gli elementi commerciali cioè che si erano gli stessi che si vedevano appunto nel periodo della dinastia Ming quindi mi pare che su questo c'è eh a noi sembra nuovo tocchi c'è i cinesi in Africa in realtà appunto è qualcosa che lo abbiamo provato a di a raccontare non inizia oggi eh anche se negli ultimi anni ha avuto effettivamente è stata più notata. Perché è stata più notata? Ma eh probabilmente perché poi si sono andati a sovrapporre anche gli interessi invece dell'Occidente che chiaramente si è vista in qualche maniera eh estromettere da alcune dinamiche in cui si riteneva protagonista fino ad alcuni anni fa. Eh l'espansione è cominciata in maniera massiccia nei primi anni 2000 in concomitanza con quella che era poi la politica di eh Go West portata avanti eh dall'amministrazione Jiang Zemin in particolare e poi ereditata da Hu Jintao eh e l'Africa era stata scelta banalmente perché aveva perché era un mercato più facile a livello di regolamentazione era molto meno restrittiva rispetto all'Europa o gli Stati Uniti e le aziende cinesi che all'epoca muovevano i primi passi o certo non erano eh molto esperte di a fare affari a livello internazionale hanno ritenuto che appunto in Africa ci fossero i presupposti per poter cominciare a eh a portare avanti un discorso di tipo internazionale quindi un po' è un po' il discorso che loro fanno sempre no quando si muovono cioè scelgono hanno sempre scelto dei mercati eh o dove diciamo così le 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 potenze occidentali erano in qualche modo usciti se ne erano dimenticati lo vediamo dall'isole del Pacifico meridionale eh appunto a all'Africa anche qualcosa in in America Latina in qui nel sud est asiatico e valso e valso tantissimi insomma cioè hanno riempito eh dei buchi cioè dei buchi probabilmente lasciati anche da eh posizioni che davano per per acquisite eh noi parliamo per comodità di Africa poi in realtà parliamo in realtà di oltre cinquanta paesi con sistemi politici eh profondamente diversi eh tra di loro condizioni sociali profonda ed economiche profondamente diverse eh tra di loro che vanno anche un po' al di là diciamo dall'immagine un po' stereotipata che abbiamo appunto dei virgolette gli africani ecco ehm come ha funzionato ecco anche da un punto di vista diciamo così di interlocuzioni economiche eh sono arrivati spesso pensiamo appunto citava Valeria in apertura eh Belt and Road quindi Belt and Road investimenti infrastrutturali molto in energia quindi pensiamo ai grandi colossi eh delle imprese di Stato diciamo cinesi che sono arrivate nel continente eh sono arrivati loro ma forse non solo loro cioè è molto anche lì lo scenario è un po' più è un po' più ampio no rispetto a come spesso lo vediamo sì eh volevo solo completare un attimo il discorso di prima sul perché è stata scelta l'Africa eh come spiego anche partendo dall'introduzione è un po' anche perché la Cina si come dire si utilizzo questo termine che mi piace si specchia nell'Africa perché ritiene che l'Africa abbia un po' i presupposti di quelle che che era la Cina negli anni diciamo ottanta all'epoca dell'apertura quindi ci sono anche delle condizioni eh in cui si riconosce ecco solo per per chiarezza eh per venire alla tua domanda assolutamente noi tendiamo un po' ad associare l'attivismo cinese in Africa con le attività portate avanti dal dallo Stato dal governo quindi da attraverso dei meccanismi supervisionati dall'alto è così in parte ma non solo eh è vero che sicuramente il settore statale è stato forse quello che ha beneficiato di più dalla Belt and Road quindi dalla nuova via della Seta però in realtà poi a livello locale sappiamo che ci sono centinaia di migliaia di aziende private che hanno potuto eh come dire espandersi anche grazie proprio a eh il contributo di contractor locali cioè di broker locali di persone che erano presenti sul posto e che hanno fatto da intermediari e eh come sappiamo peraltro che anche a livello interno insomma l'economia cinese deve molto al settore imprenditoriale privato quindi non non bisogna assolutamente sottovalutare questo aspetto e eh forse è uno degli degli elementi più più come si dice che vengono anche malinterpretati da parte delle della stampa internazionale cioè questa narrazione appunto di un di una Cina molto che porta avanti dei processi centralizzati non è non è proprio così o non sempre vorrei fare una domanda il ritmo di questi ultimi anni che sono stati appunto costellati lo dicevamo all'inizio dalla pandemia da difficoltà insomma interne di rallentamenti un po' fisiologici un po' esogeni e appunto dovuti al virus e non solo eh come hanno modificato se hanno modificato appunto il ritmo di questi investimenti di questa presenza cinese in Africa dicevamo in apertura eh che la Cina sta anche cercando in realtà di differenziare eh il suo percorso la sua Albertan Road abbiamo riguardato la scorsa settimana la presenza di Xi Jinping nei paesi del Golfo anche lì insomma si stanno intersecando parecchi rapporti ecco se ce lo puoi raccontare sì assolutamente sì in realtà sappiamo che la Belter Road ha cominciato a rallentare drasticamente già prima del covid si parla di come hanno diciamo di svolta al duemila e diciassette duemila e diciotto già eh gli investimenti erano cominciati a diminuire questo perché eh perché in realtà eh sono emersi tutta una serie di problematiche in Africa soprattutto eh da una parte alcuni investimenti effettivamente non si sono dimostrati eh economicamente sostenibili erano progetti che venivano lanciati senza una pianificazione eh dettagliata probabilmente erano dettati più da interessi politici questo è un altro elemento interessante come quel quell'aspetto più politico eh e anche culturale perché diciamo anche la Cina già in patria fa una certa fatica a dialogare con le minoranze con una certa complissità figurarsi in Africa dove insomma davvero eh c'è una frammentazione enorme e non solo paese che vai usanze e eh tribù e eh politici che trovi ma anche all'interno degli stessi paesi ci sono appunto colpi di Stato una volta ogni esatto più o meno esatto cioè non è è un mercato facile per alcuni punti di vista ma è assolutamente chiarissime sì sì no dico infatti è un mercato facile per alcuni punti di vista ma in realtà è complessissimo e probabilmente quel avventurismo dei primi anni duemila che è stato anche un po' dettato da in esperienza se vogliamo una eh appunto una pianificazione che non non era stata fatta in maniera appropriata e la Cina nel corso degli anni si è trovata poi a dover fare conti con tutte queste criticità quindi diciamo gli gli investimenti sono cominciati a diminuire drasticamente contestualmente è anche emerso il problema del debito che è sicuramente una questione eh nota di più perché eh è il tema un po' ormai chiave del dei rapporti tra Cina e Africa almeno negli ultimi mesi se ne è parlato tantissimo anche con l'avvio dei negoziati con il Fondo Monetario Internazionale il coinvolgimento per la prima volta della Cina a dei tavoli multilaterali cosa che non era mai successo prima e quindi anche la consapevolezza che insomma quello che era stato fatto andava un attimo rivisto eh il calo degli investimenti è soprattutto un calo in investimenti infrastrutturali non è un calo generalizzato abbiamo visto ad esempio che invece ehm gli accordi che coinvolgono il settore digitale sono sempre più eh protagonisti del delle relazioni tra la Cina e il continente è sicuramente un settore dove eh le le aziende cinesi stanno investendo moltissimo anche eh a causa poi di una progressiva chiusura invece dei mercati europei e statunitensi cioè pensiamo a Huawei e che è assolutamente la fada padrone in in Africa sia nel 5G molti dei degli smartphone più utilizzati degli africani sono di marchi cinesi e ovviamente anche lì cominciano poi ad emergere le problematiche che conosciamo bene legate a un'appropriazione del a un controllo su sulle informazioni personali le smart cities che si eh sono sicuramente un eh come dire possono portare dei vantaggi alla popolazione locale in termini di qualità della vita possono portare vantaggi in termini di sicurezza ma soprattutto quando vengono costruite in paesi dove ci sono governi autoritari c'è sempre paurri svolto eh legato ai diritti umani a e aggiungo anche a un possibile spionaggio da parte della Cina il eh ha fatto notizia al caso del quartier generale dell'Unione africana in etiopia e sono tutte appunto delle delle tematiche che stanno emergendo e che rendono la presenza cinese in Africa non non più semplicissima e eh tornando alla questione c'è c'è un c'è un elemento appunto tu nel nel libro ne ne parli molto ormai probabilmente sarebbe più corretto che invece parlare di eh Belt and Road o di nuova via della seta al singolare sarebbe meglio declinare declinarla al al plurale sono molte eh le le nuove vie della seta non solo la terrestre e la marittima a cui siamo abituati ormai da quasi un decennio da praticamente un decennio eh ma ehm ma appunto anche eh la la Belt and Road eh digitale la Belt and Road eh sanitaria e tra l'altro proprio sull'aspetto digitale tu in qualche modo ce lo stavi iniziando eh ad accennare a svilupparlo eh il continente è particolarmente eh vergine insomma anche per come come campo di sperimentazione no di tutta una serie di nuove tecnologie eh dai prodotti fintech fino appunto a a prodotti eh più di più complessi di sorveglianza alle smart city al tentativi di eh regolare il traffico eh in città eh dove la la popolazione cresce a ritmi eh che si vedono praticamente solo nel continente. Esatto e questo è un elemento che io non approfondisco perché sono una sinologa non un africanista però eh cerco insomma di sottolineare come anche la narrazione dell'Africa come una parte del mondo arretrata eh dove ci sono i bambini con la pancia gonfia, i poveri eh sì fino a un certo punto in realtà è un una regione molto dinamica che ha effettivamente anche delle potenzialità economiche interessanti. Detto questo però mi volevo un attimo riagganciare alla questione che aveva sollevato eh sollevato Valeria del della visita di Xi Jinping in Medio Oriente sono molti gli analisti che negli ultimi giorni sottolineavano come il Medio Oriente potrebbe diventare la nuova Africa perché laddove eh gli investimenti cinesi in Africa stanno rallentando abbiamo visto che nell'anno della pandemia. C'è il pregio che almeno gli interlocutori sono piuttosto chiari ecco. Esatto. E pare effettivamente che invece cioè dai numeri risulta che gli investimenti in Medio Oriente siano cresciuti quindi eh ora non vorrei dire che eh l'Africa verrà accantonata però tutte queste criticità di cui parlavamo sicuramente cominciano a pesare su sul bilancio complessivo quindi non è escluso che ci sarà un ribilanciamento verso altre zone del mondo ritenute più eh più praticabili ecco. Non è non è facile fare previsioni perché secondo me è un processo che si sta mettendo in moto adesso quindi servirà un po' di tempo per capire bene cosa sta succedendo però ci sono dei segnali che vanno sicuramente monitorati. Ecco abbiamo quattro minuti Francesco più o meno prima di andare. Allora sì eh no io avrei avevo molte 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 domande eh c'è eh un aspetto eh sulla eh sulla che che tu chiami lo citava anche prima Valeria il lato oscuro della Cina in Africa abbiamo un po' è un po' e nel libro lo fa in modo molto più ampio insomma è smontato la 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 questione della trappola del debito eh poi magari ci torneremo eh però insomma ci sono anche una serie di criticità oltre a quelle che abbiamo visto eh rispetto alla presenza cinese in Africa e spesso tra l'altro non legate direttamente allo stato cinese ma appunto anche questi anche imprenditori eh imprenditori privati dalla pesca eh predatoria eh al traffico di avorio eh di sboscamento e al settore ecco lì altro settore del futuro le miniere insomma le miniere africane saranno fondamentali eh rispetto e saranno probabilmente già nel duemilaventitré ce ne inizieremo a rendere conto eh uno delle eh uno dei grandi temi insomma i metalli, cobalto, litio, nickel, saranno i grandi, uno dei grandi temi probabilmente già dell'anno che sta eh dell'anno che sta per iniziare. Lì che succede su quel fronte? Sì la situazione è abbastanza complessa proprio perché come dicevi giustamente te quando si parla di risorse naturali in realtà poi spesso sono eh aziende private a gestire le attività sul campo abbiamo visto che spesso queste attività vengono portate avanti eh senza grande rispetto nei confronti poi delle delle popolazioni locali insomma negli ultimi mesi ci sono stati vari episodi di ehm di di aggressioni proprio eh sul luogo ai danni di cittadini cinesi che venivano accusati di trattare in maniera eh assolutamente rispettosa i dipendenti africani. Eh quindi parte del delle accuse che vengono mosse nei confronti della Cina che ormai detiene se non sbaglio l'ottanta per cento delle miniere di cobalto nella Repubblica Democratica del Congo che è il primo produttore africano e sta creando anche che poi delle dei conflitti a livello diplomatico perché Pechino si trova in qualche maniera a dover eh dirimere queste controversie a livello locale e è una questione che è ritornata ad attualità eh se non sbagli si era l'estate scorsa quando è stato quando sono cominciati a circolare dei video che ritrevano cittadini africani ehm pagati delle cifre risorie per eh recitare degli slogan video che poi sono stati venduti sul sul mercato cinese ehm questa questione della BBC se non mi ricordo esatto questa inchiesta della BBC metteva proprio in risalto come eh sostanzialmente i cinesi abbiano una vena razzista eh adesso dirò una cosa impopolare però è così abbastanza e questo è un elemento che poi sul campo si vede proprio nei nei rapporti tra eh dipendenti africani e eh proprietari di aziende cinesi il settore minerario è sicuramente quello in cui è più evidente questo aspetto e dicevo che crea anche problematica a livello diplomatico proprio perché eh in qualche maniera si va a eh sfilacciare con la retorica di cui parlavamo prima quindi della Cina vicina al sud globale di una Cina paese di sviluppo e quindi automaticamente solidale nei confronti dell'Africa cioè non è proprio così eh è molto più complesso sappiamo che la Cina ha una grande è un grande senso nazionalista ma di un nazionalismo che spesso è basato su basi culturali e quindi c'è proprio una come dire quando non etniche esatto anche anche perché poi c'è anche un razzismo interno di cui parlo eh in un capitolo dedicato proprio ai rapporti tra le varie comunità quindi sicuramente è un un tema che che andrebbe analizzato eh sulla base di varie sfaccettature perché ci sono tantissimi elementi che vengono tenuti in considerazione per fare un bilancio di quelli che sono i rapporti a livello locale come dicevi giustamente te poi cioè l'Africa comprende oltre cinquanta paesi quindi andrebbe anche poi eh varrebbe la pena di analizzare paese per paese come 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 viene considerata la Cina perché ci sono divergenze enormi in Tanzania dove la Cina è presente da sempre e c'è anche una grande eh complicità a livello politico eh la visione è piuttosto positiva altrove in paesi che invece hanno eh sono più marcatamente sotto l'influsso francese e britannico la situazione già cambia. Certo, beh, certo, certo. Però insomma l'abbiamo in questa meggiore mi pare che l'abbiamo abbiamo provato a dare almeno gli elementi della complessità e poi ovviamente insomma ti eh rimandiamo ai nostri ascoltatori alla lettura del eh posso mostrarlo solo perché non c'è molto la copertina. Devi perché io ce l'ho qui informato solamente. Lo ricordiamo e lo ricordiamo a chi ci ascolta ma anche chi ci guarda sul sito di Radio Radicale sui nostri social Alessandra Colarizzi sinologa, editrice editoriale di Channel Files, autrice di questo libro, questo bel libro eh che giustamente tra l'altro lo dava nella prefazione eh il modello l'Africa rossa, il modello cinese e il continente del futuro, l'Asia no, edizione insomma eh un buon davvero un buon libro per chi vuole capirne di più, non solo anche perché anche perché Valeria non non eh non ambisce a dare risposte ma da molte molti interrogativi e mi pare che è l'unico modo serio per provare a fare questo questo mestiere insomma in generale per provare a capire fenomeni così complessi eh sia appunto intanto farsi le farsi le giuste domande e provare a capire assolutamente poi anche un inquadramento storico che il libro fa fa molto bene insomma la prende dicevamo all'inizio la prende da da lontano ma fa bene perché così si capiscono molte più cose soprattutto per chi ha digiuno di magari non del tutto di Cina ma del dei motivi che legano eh la Cina all'Africa che è un apprevasso la sinologa che è me alla fine che è un continente estremamente complesso insomma in cui appunto la storia coloniale ce lo insegna le presenze di tante nazioni importanti insomma che non ce l'hanno fatta tra l'altro spesso poi a proseguire una una presenza diciamo maggiormente cooperativa e costruttiva in Africa la Cina lo sta facendo in un modo molto diverso dal passato questo è è in dubbio intanto grazie per essere stata con noi per la prima volta qui ad Asiatica su Radio Radicala da Alessandra Colarizzi. Vittoria personale con con lo svegliamo agli ascoltatori eh con Alessandra ci conosciamo dai tempi del liceo eh però è sempre prestata molto come dire così resti a venire ad Asiatica e ce l'ho fatta finalmente. Verrà importunata questa puntata natalizia. Speriamo la prima di una serie di altri e di altri interventi. Grazie ancora grazie ancora grazie a chi ci ha ascoltato questa sera qui su Radio Radicale appunto con Asiatica. La prossima.